Ciao a tutti i miei amici e amici italiani Quindi, oggi ci saranno un pack Rosplandor astral e il video oggi sarà in italiano quindi abbiate e mettete un like e commentate in sotto che è il nome di questo Pokémon A grande richiesta, oggi facciamo il l'unpacking in italiano quindi commenta qua sotto il nome di questo Pokémon qua, se lo sai, se lo conosci e vedremo se sarà giusto Dicevo, tre vi almeno garantite Si apre, andiamo di qua Ok Via 1,2,3 Già vedo che ce ne sono alcune girate Le girerò poi Le giriamole adesso dai Se no qua bisogna sempre girare il mazzo Ok Molto bene Non ho sentito nulla, ma tanto le 10 sono quindi non mi faccio neanche troppi problemi Allora, iniziamo Volcarona V Con Yamas Crescentes E Yaramada Ottimo Vediamo che lo mette a fuoco Ok Volcarona V C'è Geridos V Bello questo artwork, eh raga E' un Fedarse Posso che voglio dire o no, non fidarsi No, no, forse no Zoroark Bella carta Bellissima carta Questo è un Litheon VMAX Un'altra non VMAX Però ora abbiamo trovato 2 V e una VMAX Questo è Una carta di erba Tropius No Lilligant Lilligant Davvero un bel pokemon Lilligant Mi è sempre piaciuto tantissimo Più della sua terza Poi La prossima Flippo Ok Penso che non ce l'ho questa Questa è una VMAX Anzi una Vastro Attenzione Ed è Shaman Shaman Vastro Molto figa Questa è una Una carta di allenamento Mostaz Ce ne mancano 2 E sono una Ah Sono girate Attenzione Una, ok Lycanroc VMAX L'ultima la mettiamo giù Se non l'avete ancora vista E la alziamo Vediamo un po' Uno Due E tre Garbador V Ha Che bello questo artwork Tutto pieno di Di sporcizia E di spazzatura Che cola dai suoi cannoni Bellissimo Niente raga Allora Allora Buona giornata Questo è stato il pack Se volete facciamo un recap Abbiamo Garbador Abbiamo Lycanroc Abbiamo Volcarona Garona Geridos Lithion E l'ultimo che manca Chiaramente L'Aviastro Che è Shaman Ciao Goodbye Bye